Cantieri ancora fermi sulla sponda chiavarese del fiume Entella. Il Tribunale delle Acque di Roma, a cui si è rivolta la città metropolitana di Genova dopo la mancata autorizzazione concessa dal Comune di Chiavari per dare avvio anche qui ai lavori del nuovo argine, ha confermato ieri di fatto quanto già anticipato a luglio, rigettando la richiesta di sospensiva avanzata da Palazzo Spinola. Tutto fermo dunque, sarà il giudice a decidere nel merito, lo farà nelle settimane successive all'udienza fissata per il prossimo 8 novembre. Soddisfazione per la decisione da parte del Comitato giù le mani dal fiume Entella. Chiavari ha imposto questa sospensiva per un fatto molto rilevante che è la mancanza dell'accordo di programma, che è il titolo edilizio, quindi è un aspetto anche di carattere penale. La stessa cosa è stata chiesta anche a Lavagna di tenere conto di questo. Pare ci sono stati dei pareri degli avvocati di Lavagna che abbiano, si siano espressi in maniera diversa, ma non abbiamo mai riusciti a capire il merito di una decisione di forme rispetto a quella di Chiavari. E se dalla sponda sinistra i cantieri al momento sono bloccati, dall'altro lato invece si continua a lavorare come se nulla fosse. Dopo aver completato le strutture in cemento armato all'altezza del rio Rezza, adesso si stanno innalzando i muri a ridosso del seggiù napoleonico. Peccato che nel frattempo il vincolo paesaggistico, che comunque prima era formalmente in vigore anche nel periodo di salvaguardia, adesso è pienamente operativo e vigente. Il comune di Lavagna nei giorni scorsi aveva confermato l'intenzione di notificare l'adozione a tutte le parti interessate, tra cui la ditta TMG Scavi, che sta portando avanti l'opera. La notifica evidentemente non deve essere ancora arrivata a destinazione. Il vincolo qualche cosa vorrebbe dire, perché se il vincolo permette il quadro di cemento mi lascia molto perplesso. Vorrei far notare questo, che anche le nuove opere difenderanno l'entella rispetto alla cinquantennale, né più né meno di quello che facevano il seggiuno. Per di più il fatto che abbiano sfacciatamente demolito in gran parte il seggiuno vuol dire che Lavagna, se dovesse venire una piena tipo 2014, questo appunto si allaga e di questo dobbiamo dire grazie a regione, città metropolitane, quanti non hanno fatto la loro patria.